eccoci qua salve a tutti amici e bentornati sul mio canale bentornati dal vostro gigio io e ragazzi l'operazione moise che alla fiorentina ha fatto letteralmente impazzire tutti gli interisti su x ragazzi si se ne sentono di tutti i colori ma naturalmente ragazzi noi non possiamo andare a prendere il tifosotto semplice e riportarlo qui dobbiamo naturalmente rispondere a un capofila a uno che comanda ad uno che naturalmente in questi anni dove l'inter sta facendo di tutto e di più imbrogli a destra imbrogli a mac per non farsi mancare niente imbrogli anche al centro sia dal punto di vista del campo sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista arbitrale non si sta facendo mancare niente naturalmente questo costui che è un giornalista presente in televisione quindi un giornalista abbastanza giornalista perdono chiedo scusa ai giornalisti per questa definizione ma in teoria lo è e fa parte dell'ordine dei giornalisti quindi non è assolutamente colpa mia però costui non parla mai di queste cose dell'inter però appena la juventus fa un'operazione di mercato lui deve fare il commento naturalmente ce ne sono anche altri ve l'ho detto x è impazzita ma non possiamo concentrarci su tutti ne parliamo insieme in questo video ma prima di tutto ragazzi vi chiedo un like a questo contenuto l'iscrizione al canale perché grazie se non l'hai ancora fatto iscriviti gratuitamente per dar voce alla nostra voce di protesta noi siamo una controinformazione che appunto lotta contro questo tipo di narrativa questa informazione mainstream che poi ragazzi porta ai risultati che abbiamo visto in questi anni con l'inter che ruba selvaggiamente senza che nessuno gli dica niente la juventus che viene punita come unica a fare le plus valenze quando invece tutte le altre possono fare tranquillamente le plus valenze senza che nessuno ne parli senza che nessuno dica niente senza che alcuna procura si muove quindi iscrivetevi al canale azionate la campanella delle notifiche e soprattutto condividete questi contenuti come vi dicevo ragazzi oltre al personaggio in questione che avete già visto non lo voglio nominare ancora perché me lo voglio tenere in caldo avete già visto in copertina ci sono stati altri giornalisti tipo pasquale guardo di calciomercato.com molto seguito su x che dice rivolgendosi al suo pubblico dice ma chi di voi comprerebbe mai moise a 13 milioni più 5 di bonus oppure quando vai a parlare proprio di ossessione juventus con caruso che è assolutamente un giornalista altro giornalista ragazzi ma non è colpa mia sempre di fede interista che va a dire appunto che questa operazione è scandalosa attacca attacca la dirigenza della fiorentina dicendo che è l'ennesima operazione in favore della juventus come se la fiorentina fosse una succursale della juventus e dobbiamo forse ricordare le operazioni tra inter e stasolo vogliamo ricordare bene bene come è andata l'operazione frattesi dopo che era stato chiesto la luna per gli altri come è stato fatto mulattieri c'è qualcosa ma no è moise ken ragazzi moise ken che ha la stessa età di mulattieri ma che ha presenza in serie a a differenza di mulattieri gol in serie a presenza in premier league presenza in lega presenza in nazionale ma moise ken ragazzi è uno scandalo venderlo a un anno dalla scadenza a 13 milioni più 5 di bonus ricordiamo che parliamo di un classe 2000 e quando vi vengono a dire è 19 presenza e zero gol innanzitutto portiamo i dati dell'anno scorso dove fa sei gol in campionato quindi non è così scarso quest'anno tre o quattro gol li aveva fatti se poi per alcune ragioni per alcune ragioni questi gol gli vengono annullati per un millimetro di fuorigioco perché il nostro amico il grandissimo il grandissimo capitano del verona a cui ragazzi bisogna essere comunque comunque grati per quel gol che fece quella volta a napoli che c'è regalato la semplice però in quest'occasione che è stato vedendo in questo momento è assolutamente fece una simulazione che fece annullare il gol un altro gli è stato annullato nella giornata prima quindi poi ha subito un infortunio alla tibia ok non è un gran gol ed or ma stiamo parlando di un giocatore di 24 anni con delle potenzialità immense che sono già 8 anni che gioca tra i professionisti quindi forse 13 milioni più 5 di bonus di cui 2 facilmente raggiungibili e 3 con obiettivi di squadra non mi sembra un prezzo esagerato se tengo presente che il giovanissimo pinamonti proveniente dal frosinone con 4 o 5 gol in un frosinone retrocesso viene venduto a 20 milioni al genoa plus valenza assolutamente fittizia perché l'anno dopo il genoa lo rivende all'inter a 20 milioni poi viene venduto a titolo definitivo 20 milioni al sassuolo sassuolo che come tutti sappiamo è una succursale dell'inter ma veniamo ragazzi al personaggio clou di questo video il personaggio naturalmente è uno che addirittura è in televisione dobbiamo ringraziare di questo crescitello e pedula che hanno investito sul tan cretino dando la possibilità a costui di esprimersi addirittura in televisione e questo dice la juventus ha vinto una lotteria da 13 milioni di euro chiamata che alla fiorentina naturalmente su casa dei zero presenze zero gol in serie a venduto al celsi per 20 milioni esattamente la cifra che tra prestito ed ingaggio permetteva all'inter di prendere lucano strano vero nessuno si è mai chiesto come mai il manchester united comprasse onana a 50 milioni proprio dall'inter un portiere comprato l'anno prima a zero che nessuno aveva preso a 50 milioni chissà chissà come mai forse perché ancora non era stato pagato l'amico lukaku al manchester united e quindi onde evitare di prendere di perdere i soldi conoscendo i soggetti conoscendo l'insolvenza dei soggetti hanno preferito comprare un giocatore al massimo ci ritroviamo un buon portiere o come nel caso come è successo poi nella realtà ci ritroviamo un bidone che rivendiamo a 20 non abbiamo perso del tutto i soldi però su queste cose naturalmente il grandissimo tancredi palmeri non si esprime lui è uno distaccato ragazzi che parla di calcio in modo come dire equidistante senza essere offuscato dal tifo quindi quindi naturalmente è uno che merita la posizione che ha e può permettersi di parlare appunto di ken perché anche se non ha mai nominato mulattieri anche se non si è mai espresso su pinamonti anche se non ha mai parlato delle plus valet delle plus valenze dell'inter di tanti anni fa quando quando il dirigente dell'inter piero ausilio veniva chiamato il re delle baby plus valenze però ragazzi moise che alla fiorentina per 13 milioni ragazzi un classe 2000 24 anni 13 milioni a un anno dalla scadezza quello va bene quello va bene mentre quando succede ai calcio all'inter che voleva vendere al paris san germain ragazzi attenzione perché voi le cose vanno ricordate due anni fa l'inter voleva vendere al paris san germain screener per 60 milioni paris san germain a un anno dalla scadenza arriva ad offrirte nei 50 marotta rifiuta perché ne voleva 60 poi l'ha preso nel culo perché c'è andato lì a zero e io godo come un riccio però nei fatti nei fatti l'inter voleva così però invece moise che 24 anni lo ribadisco quasi 20 gol nel paris san germain presenza all'everton presenza in nazionale per un stagione sfortunata con un allenatore di merda che è stato allenato da un allenatore di merda che fa un gioco difensivo aveva dei giocatori più forti davanti non ha giocato molto non vale 13 milioni di euro questa è la narrazione ragazzi che viene fatta in italia perché invece invece la riserva di daniel maldini classe 2005 uno che in serie a fa le presenze che fa ma segna solo due gol uno che è fortissimo però per un'esultanza nell'amichevole col guatemala prima della coppa america poi non fa niente che in coppa america sta facendo zero presenza non fa niente non fa niente che probabilmente è un piacere a quell'altro imbroglione di zanetti aver convocato lui e non uno come sole che diecimila volte più forte di valentine carboni però valentine carboni per la narrazione della gazzetta lo vuole mezz'europa e sarebbe un affare comprarlo a 35 40 milioni gli anni passeranno ragazzi e ci daranno anche la risposta su valentine carboni così come ce la diedero su casa dei che due anni fa secondo gli interisti era un fenomeno epocale parliamo di un 2003 che non ha mai giocato nel celsi e voi sapete che in inghilterra fanno giocare i giovani differenze qua ma questo qua era scarso l'anno scorso dissi che mulattieri era una sega perché uno che è in classe 2000 che ha 23 anni ancora non ha una presenza in serie a non ha una presenza nessuno lo conosce neanche la madre lo conosceva non ha un gol in serie a e tant'è vero nel suo retrocesso che tra le altre cose sa solo che vince due partite con l'inter ma le perde poi tutte in campionato la casualità nell'anno dello scambio mulattieri frattesi e questo è sempre un caso per la giustizia sportiva però ragazzi quelle erano operazione giusta fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti massima condivisione di questo video perché gli sta rodendo il culo e quindi dobbiamo condividere perché la juve ragazzi sta tornando perché la juve tornerà a fargli il culo nonostante gli arbitri raggi perché come si sta mettendo il mercato quest'anno potrebbero anche perdere nonostante gli imbrogli ragazzi potrebbero anche perdere non potrebbero non bastargli gli imbrogli che hanno fatto l'anno scorso quindi condividete il video io vi ringrazio se siete stati qui con me regalandovi qualche minuto del vostro sabato e fino alla fine contro tutte e tutte sempre con voi forza juventus e nel dubbio per cominciare bene il sabato mattina intermerda che non basta davvero mai